Da giovedì squadra in ritiro per preparare al meglio la partita di Udine. Contro i bianconeri di Cioffi, la Saritana si giocherà una delle ultime possibilità di riaprire i giochi. Scontro diretto e quasi espressione eccessiva se si pensa che i friuliani hanno 10 punti in più, ma è di tutto evidenza che alla Saritana un'eventuale affermazione piena darebbe speranza e slancio in vista delle successive sfide, prima fra tutte quella esterna col Cagliari. Liverani potrebbe passare alla difesa a quattro specie se Pirola, Fazio e Perozzi dovessero essere a disposizione. Le soluzioni in retroguardia potrebbero aumentare ed anche per le caratteristiche dei calciatori arruolabili, il tecnico potrebbe varare un assetto più in linea con le sue idee. In mediana si potrebbe vedere maggiore nei panni del metronomo tra l'Assana, Kulibali e Basic. In avanti si ripartirà dalla grinta di Weisman, Candreva che oggi compie gli anni, potrebbe giocare in tandem con Cassano, Sociona. C'è poi Dià che potrebbe diventare un fattore qualora ritrovasse la verve della scorsa stagione. Sabato sarà una partita importante e dopo le parole di Sabatini che ha idealmente accarezzato il gruppo è lecito attendersi una reazione di carattere da parte di tutti. E carattere da vendere ne aveva Simone Perrotta, campione del mondo del 2006, oggi a Salerno per parlare alla provincia del tema della dispersione scolastica e di quello che il calcio può fare per arginarla. Ma è una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene. Ha una squadra, una rosa di giocatori che poteva lottare fino alla fine, può lottare fino alla fine per non retrocedere. Chiaramente adesso le cose sono complicate un po', però ha le possibilità per emergere da quelle che sono adesso la situazione attuale. Il calcio poi vive di situazioni, di momenti, anche all'interno delle partite stesse, si vive di episodi. Molto spesso alla Salernitana questi episodi sono stati negativi, però ci sono ancora tante partite. È complicata, però il calcio ci ha insegnato che mai dire mai, ecco la parola fine, si dice veramente all'ultima giornata. Per volta conosce molto bene Pippo Inzaghi, insomma avete vissuto un'esperienza importante, che cosa che secondo lei non ha funzionato in questa esperienza? Ma questo non lo so dire perché essendo al di fuori poi le situazioni interne non le capisco, non le capisci, non le comprendi, puoi dare solo un giudizio superficiale, non mi va nemmeno di giudicare perché poi gli allenatori sono purtroppo giudicate solo dai risultati e questi non sono arrivati, ma Pippo rimane un ottimo allenatore, l'ha fatto vedere in passato e continuerà a farlo vedere in futuro sicuramente. Ma sai, la questione social è una questione molto delicata e quando giocavo io la contestazione era una contestazione un po' più diretta, di persona. Leale non virtuale? Per certi versi era peggio, per alcuni meglio perché comunque rimaneva lì nelle mure del centro sportivo, durava il tempo necessario e giusto della contestazione, poi tornavi a casa e finiva tutto, adesso invece quando la contestazione si sposta sui canali social è una contestazione che rimane, è incontrollata sicuramente e poi la possono vedere tutti, io banalmente a mia madre e ai miei genitori dicevo tutto bene, non era successo niente quando in realtà c'erano mille persone davanti al centro sportivo a contestarci, invece sui social è incontrollabile, sono tutti questi cosiddetti leoni di tastiera che si permettono di scrivere e di denigrare tutto senza tener conto poi che ognuno ha una vita personale, ha dei figli, ha dei genitori, ci stanno male per cui è giusto denunciare, è giusto porre l'attenzione su un tema che è veramente delicato.